Le Marche stanno diventando un punto di riferimento a livello nazionale e lo sviluppo sostenibile è tra le priorità dell'agenda del Governo regionale. Non a caso l'Assemblea legislativa delle Marche è stata la prima in Italia ad approvare una risoluzione sull'economia circolare e nella legge regionale Industria 4.0 di recente approvazione abbiamo proprio voluto un articolo che si occupasse di economia circolare. E' questo perché la regione Marche non ha nemmeno per un istante pensato che l'economia circolare fosse qualcosa che interessasse solo l'ambiente. L'economia circolare è una nuova leva della politica industriale marchigiana e la regione Marche vuole dare il proprio contributo. Entro la fine dell'anno uscirà un bando di oltre un milione di euro che sarà proprio rivolto a finanziare quelli che sono i progetti migliori su cui il cluster Marche sta già lavorando.